Un annuncio che in realtà pochi si aspettavano, lei ha lasciato Forza Italia e è ritornato in quella che è la sua casa natia politicamente, a fianco di Adriana Polibortone. Ritorno, scendo in campo con un ritrovato entusiasmo. La discesa di Adriana, con cui ho iniziato, ho mosso i primi passi, candidandomi appunto a Lecce qualche anno fa, oggi mi ridà un nuovo slancio in un partito in cui credo e che è stato il partito con cui ho mosso i primi passi, perché io vengo d'Alleanza Nazionale, ho rivestito in Consiglio Comunale la carica di capogruppo di ANPDL, lascio Forza Italia, un contenitore nel quale non mi ritrovavo più, non mi ritrovavo più né sui temi né sui rapporti interpersonali, assenza di discussioni, assenza di confronti, assenza di attività politica, ragion per cui quasi come se fossi un corpo estraneo all'interno di quel partito, avulso potrei dire. Per me il partito è comunità, è una famiglia, i partiti dovrebbero essere impergnati dal principio della meritocrazia, cosa che io in quel partito non ho più riscontrato e poi naturalmente la scomparsa di Silvio Berlusconi mi ha in qualche modo fatto riflettere maggiormente. Qual è la prima cosa che farà per la città di Lecce laddove deve essere straletto? Lecce è caduta veramente in un periodo di grande oscurantismo, Lecce deve essere rilanciata sotto ogni profilo, i cittadini devono ritrovare l'entusiasmo di camminare in questa città, cosa che non c'è più. Io riprenderò tanti dei miei temi, sanità, ambiente, massimo sarà il mio impegno, anche rispetto alla qualità della vita dei cittadini e Leccesi. Oggi le famiglie sono in grande difficoltà, sono assolutamente trascurate e tante attività amministrative di questo Comune non hanno fatto che peggiorare le condizioni economiche e sociali dei cittadini leccesi.